Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo un lavoro eseguito con un pirografo con il controllo della temperatura. L'aspetto principale di questo lavoro, di questa nostra proposta, è farvi vedere come si può realizzare un lavoro ben eseguito, ben fatto, utilizzando la variazione della temperatura. Alcuni pirografi funzionano a temperatura fissa e stabile, mentre altri hanno la possibilità di variare la temperatura. Aumentando e particolarmente invece diminuendo la temperatura è possibile fare delle sfumature molto chiare, quindi quando vogliamo fare delle sfumature molto chiare usiamo la temperatura più bassa, mentre quando abbiamo una temperatura più elevata avremo delle sfumature e dei riempimenti più scuri. Quindi è importante nella scelta del pirografo se si vuole effettuare dei lavori, diciamo, di qualità elevata o di buona qualità, occorre utilizzare un pirografo che varia la temperatura, con la possibilità di variare la temperatura. Buongiorno e grazie.